Benvenuti al nostro Banco Bar Virtuale Vorrei dire che quello del costo del lavoro è un tema in questo momento piuttosto scottante e sensibile ma non è vero, è sempre stato scottante e sensibile, assolutamente così come sensibili sono tutti gli imprenditori, tutti i datori di lavoro verso ogni consiglio, verso ogni suggerimento che possa permettere di abbassare questo costo importante per un locale Ora tranquilli, questo non è un modo di pensare soltanto italiano, quindi non siamo provinciali in questo senso metodi per abbassare il costo del lavoro si suppone di conoscerli in realtà un po' in tutto il mondo e quindi si cerca sempre in qualche modo un input che possa portarci a lavorare in questa direzione A fornirci questi input oggi è Wilson Key Lee un ragazzo canadese che ha un canale YouTube peraltro molto interessante in cui abbiamo trovato questo articolo che si basa, avete visto, su 5 consigli per ridurre il costo del lavoro Ora, questi consigli sono molto americani, molto nordamericani, ragazze canadese, lo vedrete ma sono poi applicabili a una vera situazione di lavoro? Sono applicabili peraltro a un contesto culturale come quello italiano? Andiamo a vederlo! Potrei subito dire, come è di moda, che non vi faccio perdere tempo, andiamo subito dritti al sonno dell'argomento ma non è così, vi faccio perdere 30 secondi vi faccio perdere 30 secondi per parlare del protagonista del video che andiamo a vedere oggi, a commentare oggi lo trovate su YouTube come Wilson K, e come dicevo si tratta di un ragazzo che sembra giovane è un ragazzo canadese, siamo andati ad esplorare un pochino le sue biografie ed si definisce sul suo sito come mentore di ristorante, quindi educatore di ristorante e di ristorazione e sul suo sito si racconta molto bene, ci racconta di aver fatto tantissime esperienze molti progetti di successo e devo dire poi questi progetti soprattutto nella food industry in generale quindi nel mondo della ristorazione si capisce che ha lavorato quelli tanto in questo settore non si capisce se ha lavorato veramente sul campo quindi se è rimasto veramente fra i tavoli del ristorante o al bancone del bar probabilmente ha più seguito questi locali dal punto di vista più imprenditoriale e gestionale diciamo sul suo sito sono elencati molto successi ma anche diversi insuccessi si racconta anche dove ha fallito in una sezione molto simpatica peraltro altre belle informazioni su di lui e sulle sue attività la trovate anche sulla pagina, sulla sua pagina Instagram che vi mettiamo in descrizione e soprattutto sul suo canale YouTube, anche questo lo trovate in descrizione soprattutto perché è uno dei, probabilmente, almeno per quello che ho potuto esplorare è uno dei pochi canali che davvero offrono informazioni non troppo generiche e quindi abbastanza specializzate su questo argomento sul suo canale di video ne conta molti, moltissimi ma quello che ci ha solleticato, almeno questo episodio magari poi ne dedicheremo anche altri è il video che trovate in descrizione in questo video, infatti, Wilson ci offre cinque consigli, cinque suggerimenti per ridurre il costo del lavoro in un'attività di ristorazione ora, con persone che fanno un lavoro come il nostro, che hanno una passione come la nostra quindi suggerimenti del genere sono imperdibili un video di questo tipo è imperdibile e quindi ci siamo messi a guardarlo bene cercando anche di cominciare a farci qualche domanda a riguardo alcuni dei suggerimenti, a prima vista perlomeno alcuni dei suggerimenti di Wilson sembrano quasi un pochino fuori tema un po' off topic, come si direbbe da quelle parti e ci siamo chiesti del perché di questa sensazione se perché lui di fatto appunto non avesse mai lavorato veramente all'interno di un'attività o perché ci fosse una specie di gap di sistema, diciamo quindi che lui ragionasse in qualche modo come un imprenditore e non come un barista pizzaiolo purtroppo a volte in Italia queste figure sono un po' mischiate quindi chi fa l'imprenditore di ristorante e chi ama il ristorante si definisce pizzaiolo, barista, eccetera, eccetera lui ragiona da imprenditore e se sì, questo probabilmente gli dà anche una visione più aperta andiamo comunque a vedere i suoi consigli, quelli che ci offre e a cercare di commentarli e capire se sarebbero adattabili anche a una realtà come quella italiana quindi in questo primo segmento, in questo primo suggerimento Wilson ci parla del cosiddetto podstaffing in pratica suggerisce di creare delle specie di unità di lavoro delle task force potremmo definirle e di individuare questi gruppi di persone che compongono questo staff, questo pod anzi, quanti clienti possono servire beh, come espressione peraltro ci siamo messi a fare un po' di ricerca perché podstaffing sembra essere stata inventata direttamente da Wilson perlomeno nel mondo della ristorazione troviamo in realtà, naturalmente, traduzione della parola pod capsula, baccello, qualcosa del genere e della parola staffing che è collegata al concetto di staff quindi davvero di gruppo di lavoro ma mai i termini sono uniti insieme un termine nuovo, insomma, come forse nuovo è l'uso dello stesso cioè quello inventato da Wilson lui in pratica ci dice di pensare, di combinare il nostro personale in gruppi appunto in pod forse noi tradurremo meglio come shift, come turno potremmo dire lui lo ragiona però proprio come unità di lavoro di base e ci consiglia di identificare qual è il numero di persone che compongono questo pod appunto e di andare a prendere nota nel tempo di quanti clienti riescono a servire fino ad arrivare a determinare il massimo numero di clienti che possono appunto servire a quel punto noi useremo pod, pods anzi nel momento in cui ci serve e ci aspettiamo quel determinato grosso modo numero di clienti ma questo metodo può veramente farci risparmiare soldi? può incasellare in questo modo l'uso del personale? ha poi un senso in un risparmio economico? a prima vista onestamente no di forse di questo consiglio però mi sentire di salvare qualcosa vale a dire di andare a cercare a prendere dati ogni dato, compreso l'incasso, questo sicuramente saremo bravissimi a segnarci ogni sera ma anche poi il rapporto dell'incasso con il numero di clienti e dello staff che abbiamo utilizzato ecco tutti questi dati ci saranno sicuramente preziosi nel tempo l'analisi dei dati rimane nell'economia moderna sicuramente un aspetto fondamentale e cerchiamo di farlo ci prenderà tempo, ci sono dei software che possono aiutarci in questo senso se anche abbiamo questi software, questi ci riempiranno di informazioni cerchiamo di trovare poi il tempo di analizzarli anche se a prima vista un dato ci sembra oggi, due mesi dopo l'apertura beh, alla fine è tutto inutile cerchiamo di registrarlo o comunque cerchiamo di averlo accantonato da qualche parte perché può darsi che fra un anno ci rendiamo conto che quel dato ci manca e ci darà uno storico importante per vedere come sta andando la nostra attività e cercare di ottimizzare utili e costi In questo secondo consiglio, e lo dico rischiando di farmi quittare subito, Wilson ci dice che il modo di risparmiare sul personale è pagato di più avete capito bene ora, ascoltare bene non è così foda la cosa diciamo che Wilson ci dice che uno stipendio appena più alto lui parla veramente di pochi centesimi, di 50 centesimi in più motiverà lo staff e lo renderà più leale, diciamo più leale, dice ancora, uguale minori cambio del personale quindi questo personale tenderà a stare più a lungo da noi ci sarà un minor turnover e quindi minori costi di gestione del personale proprio perché non dovremmo continuamente andare a riformare del personale nuovo ora, lanciato sulla realtà italiana, pagare di più il personale per farlo essere più leale credo che sarà un concetto più divisivo dei partiti politici, delle elezioni che stanno per arrivare i dipendenti, probabilmente chi in questo momento sta lavorando come dipendente in un'attività di ristorazione, si iscriverà sicuramente a favore dicendo che peraltro lui è la persona meritevole di essere pagata di più perché è più seria e più leale probabilmente molti altri imprenditori ragioneranno esattamente al contrario dicendo che non è inutile fare questo tipo di attività di pagare di più il personale perché comunque questo sarà sveale e si comporterà male purtroppo se andiamo a frugare su qualche social o su qualche social network troveremo esattamente questo tipo di impostazione naturalmente in mezzo a questi due poli c'è anche tanto altro in mezzo tanto altro di molto più sano ci sono moltissimi operatori assolutamente seri che rispettano il personale che sono anche disposti poi a pagarlo un po' di più soprattutto nel caso di persone meritevoli e ne ricevono in cambio lealtà e serietà ma il tema rimane comunque complicato e come dicevo molto divisivo voi che ne pensate? gamification lo chiama Wilson quindi rendere l'ambiente di lavoro divertente simpatico e interagire in modo positivo con i dipendenti qui mi sbilancio un pochino devo dire che mi sento di dare ragione al nostro amico canadese perché nella mia esperienza di gestione di locali devo dire che questa cosa a mio avviso funziona veramente quindi poter permettere al nostro staff di lavorare in un ambiente simpatico in cui si lavora in qualche modo con il sorriso sulle labbra e alla fine sicuramente rende le persone più leali e più affezionate al posto di lavoro io penso che molti di voi che state guardando questo video possiate condividere con me questa idea sicuramente per alcuni boss un contesto del genere quindi saper creare un ambiente di lavoro positivo simpatico in generale a livello spontaneo proprio perché siamo positivi di natura per altre persone che magari invece di natura sono un pochino più ombrose tutto questo potrebbe risultare un po' più complicato un po' più difficile ricordiamoci comunque che sicuramente che siamo positivi, che siamo ombrosi ci saranno quei momenti anche se vogliamo creare all'interno del gruppo una certa positività ci saranno i momenti in cui dovremmo stringere un pochino i denti ma se fino a poco prima e comunque subito dopo sapremo tornare a essere appunto beh non dico degli amici è una parola sicuramente grossa ma comunque delle persone positive e che pensano a loro e che sono attenti ai nostri dipendenti beh sicuramente possiamo chiedere di stringere un pochino più i denti nel momento della battaglia per poi ritrovarci subito dopo dopo questo consiglio forse cominciamo davvero a vedere la strategia di Wilson peraltro noi non ci parla che ne accorgete di risparmiare soldi in senso stretto quindi di avere più soldi in tasca alla fine del mese perché magari risparmiamo sulle ore di lavoro o altro diciamo che lui ci dice di creare un ambiente in cui il personale sia più motivato e che quindi non se ne vada insomma alla fine è un risparmio diretto un risparmio che darà frutti nel tempo appunto anche questo consiglio che vediamo adesso va naturalmente in questa direzione lui ci dice incrociate i ruoli fate ruotare il personale in diverse postazioni mettere beh chi lavora al bar a fare gelati o qualcosa del genere l'opposto quindi gelataia se ne va invece a fare cocktail tutto questo creerà insomma meno noia più divertimento e meno mogugne e quindi alla fine meno turnover una maggiore lealtà definiamola con questo termine ma è vero? beh personalmente devo dire sempre nella mia attività di gestione devo dire che onestamente ho provato approcci di questo tipo abbiamo cercato quindi nel tempo di fare interagire il personale in ruoli diversi trovando a onor del vero nell'80% dei casi una certa resistenza quindi non è sempre così facile le persone che fanno sempre quel lavoro vogliono stare a fare quello perché si sentono meglio non vogliono mettersi in discussione e quindi si fa un pochino più fatica non si vuole imparare magari dall'altro o altro ancora inoltre c'è da dire che è vero che la persona va formata in quel ruolo è anche vero che mentre la formiamo i ritmi di lavoro si ne soffriranno perché quella persona comunque non sarà ancora abbastanza brava per coprire i ritmi pieni in quel posto di lavoro quando riuscivamo a farlo c'erano alcuni vantaggi evidenti sicuramente da una parte perfino si scopriva nuovi talenti quindi una persona si metteva a fare un altro lavoro e scopriva di essere molto brava in quello e quindi trovavamo sicuramente un'altra preziosa risorsa dall'altra parte poi c'era anche il fatto che se magari un membro dello staff era assente per qualche motivo c'era qualcuno in modo di sostituirlo quindi in qualche modo si poteva interagire intercambiarci è come una panchina del calcio con qualche giocatore più multiruolo un gran vantaggio ancora un consiglio quello che abbiamo visto adesso che non sembra ancora una volta avere molto a che fare col vero risparmio finanziario è forse un risparmio sulle pillole per il mal di testa infatti Wilson ci dice che per evitare il grattacapi il mal di testa dovremmo essere chiari con tutti i neossunti quindi con le persone che cominciano a lavorare da noi e definire con loro una chiara policy quindi diciamo dovremmo essere molto chiari su cosa ci aspettiamo sia dal punto di vista lavorativo che sono orari competenze eccetera eccetera e sia anche su tutti i comportamenti correlati al posto di lavoro lui fa un po' di esempio per esempio su cosa si può mangiare gratis due gelati invece di tre eccetera eccetera e per esempio se nel orario di lavoro è per questo di cambiarsi cioè se il cambiarsi rientra nel orario di lavoro e aspetti di questo tipo come idea generale almeno io sono d'accordissimo naturalmente aspetto i vostri pareri anche se penso che una volta create queste regole poi debbono anche un pochino essere viste nella situazione magari se un giorno il gruppo di lavoro si è fatto davvero un gran mazzo beh potremmo anche essere per offrire una pizza noi anzi andare tutti insieme a mangiarsi una pizza insieme anche questo creerà sicuramente un ambiente più simpatico e positivo insomma cinque consigli che come abbiamo visto alla fine guardandoli bene hanno forse poco davvero si diceva a che fare con risparmio vero e proprio hanno più a che fare con appunto un rapporto sano in qualche modo con i clienti con i dipendenti scusate anche questo abbiamo detto sappiamo bene che è un tema molto divisivo chi lavora in questo campo sa bene ma forse in tutti i campi di lavoro sa bene che il rapporto fra il boss e le persone che ne dipendono è a volte molto spesso un po' complesso anche nel modo più sano senz'altro beh quanto di meglio quindi questo speriamo possa diventare una piccola qualche spunto di riflessione per capire se i metodi anglosassoli possiamo dire potrebbero essere esportati qua un metodo che potrei dire più di impresa di azienda ecco potesse essere poi trasportato in una piccola realtà è un aspetto davvero che dobbiamo mettere sul piatto e andare a pensarci meglio tutti quanti ognuno porterà esperienze personali e speriamo davvero di leggerle qui nei commenti speriamo che questo video vi sia stato utile sia per pensare a quello che sarà il vostro bar e sia per gestire al meglio il vostro bar se poi state entrando in questo momento nel mondo del bar vi invitiamo a contattarci naturalmente alla nostra scuola la Espresso Academy ora se il video vi è piaciuto vi invitiamo assolutamente a iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per essere aggiornati sulle nuove uscite se non vi è piaciuto ancora più importante fateci sapere perché così come fateci sapere se ci sono argomenti che vorreste che toccassimo per rendere sempre più attuale questo canale permetteteci infine di ringraziare le strutture che ci permettono di andare avanti con questo progetto a cominciare dai caffè di Mocrafor dai caffè special di Caffè Lab dalle macchine della San Marco e permetteteci di ricordare che nessuno in questo momento sta aspettando il nostro locale lo stanno aspettando se siamo in grado di portare qualcosa di nuovo qualcosa di interessante divertente per cui andiamo avanti e continuate a seguirci sul nostro canale che offre sempre tutte le info le dritte e regolamenti per il mestiere più figo del mondo a la prossima 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 a la prossima